È verso mezzanotte che i ladri della banda della Ruspa mettono a segno il primo furto, quello di un mezzo aziendale di Telestense, un Doblò. Sono le 23.30 quando tre uomini, incappucciati e come si vede dalle nostre telecamere di sorveglianza, indisturbati e tranquilli, entrano nel cortile di Telestense. Cercano un modo per entrare nella sede dell'emittente in via Virginia Woolf. Lo individuano in una piccola finestra laterale, che smontano in maniera chirurgica, quasi nascosta dietro i contenitori della raccolta indifferenziata. Entrano nella sede, perlustrano uffici e la redazione. Tentano anche di scassinare alcune porte ma senza riuscirci. Aprono cassetti, antine di armadi. Nonostante le attrezzature a disposizione, i ladri puntano alle chiavi del mezzo aziendale. Se ne vanno poco dopo la mezzanotte, portando via due estintori e il Doblò, che servirà per mettere a segno il colpo al distributore di Via Bologna, dove una delle due colonnine sarà divelta e caricata sul furgone. Doblò, che verrà ritrovato abbandonato nella campagna nei pressi di Torrefossa, in un terreno di proprietà privata. La banda, dopo il colpo di Via Bologna, è fuggita percorrendo Via Fabri, in cerca di un luogo isolato per scassinare la colonnina caricata sul Doblò. Il furgone viene nascosto nei pressi di una vigna, poi i ladri se ne vanno indisturbati con il bottino. Il mezzo aziendale di Telestense viene trovato questa mattina da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Via del Campo, avvisati dalla proprietaria del terreno. A loro sono affidate le indagini del triplo furto messo a segno dalla banda della Ruspa in città Ferrara la scorsa notte. No, è che stessa arrabbando, ma per il canale di che sta...